Ma ha ragione chi dice che Renzi ricorda un po' Berlusconi degli inizi? Ma Berlusconi ha insegnato molto alla politica, ha insegnato a essere trasparente, a fare le cose non chiuse nei palazzi grigli, un po' fanè, ha insegnato che bisogna parlare agli italiani e non ai gruppi dirigenti e Renzi direi che è un politico contemporaneo.